Si è svolto a Ristorante Anton di Recanati il nonno congresso territoriale della CGL di Macerata, che si è aperto con il discorso introduttivo dell'uscente segretario generale Aldo Benfatto, che ha voluto sottolineare il ruolo decisivo che devono svolgere nei prossimi anni gli istituti di credito, le camere di commercio e i servizi pubblici come trasporti, rifiuti e sanità. Siamo un sindacato che in questi anni drammatici ha comunque svolto un ruolo fondamentale nel nostro territorio, di tutela per i lavoratori nonostante la crisi drammatica che stiamo vivendo. Mi auguro che il sindacato, io sono convinto che lo farà, che la CGL sarà sempre più presente all'interno dei luoghi di lavoro, tra i pensionati che vivono una situazione drammatica, anche di emarginazione di difficoltà e soprattutto che guardi ai giovani dando qualche speranza e qualche prospettiva, specialmente i giovani che vogliono impegnarsi, vogliono creare qualche cosa ai quali dobbiamo dare tutti insieme delle risposte chiare e precise. O si fa squadra sulla base di un progetto di rilancio collettivo e condiviso di questo territorio oppure rischiamo un declino molto grave. Tante le proposte che la CGL, non solo provinciale ma anche regionale, ha portato avanti, soprattutto quelle rivolte al sociale. Quello che è emerso al congresso infatti è la necessità di fare squadra sulla base di un progetto di rilancio collettivo. Noi assieme a CGL abbiamo definito da tempo una proposta organica che riguarda l'organizzazione delle autonomie e quindi significa non soltanto riduzione dei costi ma soprattutto capacità di dare nuovi servizi. Sicuramente ci sta dentro un discorso di funzione diversa dalla provincia pur nell'incertezza normativa che ancora non sappiamo bene come andrà a finire, ma soprattutto crediamo molto nella gestione associata dei servizi comunali a livello sovracomunale, di ambito, tutti i servizi e qui stiamo spingendo e invitiamo anche le autonomie locali di superare i campanellismi e mettersi in discussione. Ora dovremo con il congresso essere in grado di rilanciare, fino ad ora abbiamo lavorato molto in difesa invece dobbiamo trovare le ragioni per passare all'attacco e quindi abbiamo proposte concrete su come misurarci sia a livello nazionale che regionale e anche in questa provincia. Quindi questo è il compito di una sindacata, di una CGL, che ci auguriamo che da questo congresso riesca anche più unita e più forte. Il quadro economico, normativo e complessivo è un quadro estremamente penalizzante. Stiamo assistendo a un costante arretramento del perimetro dello Stato e della pubblica amministrazione in generale sul territorio. Noi in questi anni abbiamo cercato di mettere in campo delle logiche di difesa dello spazio pubblico. Quindi i nostri interventi, mi viene da leggerli in questi termini, quindi tutto ciò che abbiamo cercato di fare nell'ambito della vertenza Smea Cosmeri e quindi puntare alla realizzazione di un unico soggetto pubblico radicato sul territorio maceratese a difesa sia della buona occupazione ma anche della qualità del servizio e delle tariffe. Altrettanto abbiamo cercato di fare in ambito sanitario. Quindi diciamo a livello locale stiamo cercando vertenza per vertenza di tenere botta, quindi cercare di reggere e tenere i sistemi all'interno dell'ambito pubblico. Penso che questa sia la sfida non solo a livello alto ma quotidianamente praticata vertenza per vertenza. Tante anche le lotte che il sindacato e i suoi delegati hanno intrapreso per migliorare i bisogni e le esigenze dei pensionati, dei lavoratori e dei giovani e per accrescere le imprese stesse. Siamo di fronte forse al passaggio più critico degli ultimi cinque anni, siamo di fronte a un disastro. È chiaro ed evidente che bisogna lasciare la strada perseguita negli ultimi venti anni e creare, i muratori se ne intendono, una nuova strada, cioè quello che va verso la sostenibilità, il rispetto ambientale e soprattutto i nuovi metodi nel costruire, perché è solo così che il settore può ritrovare la luce. Anche nel settore del commercio viviamo situazioni di cassa integrazione, di contratti di solidarietà, io stessa sono una lavoratrice in contratto di solidarietà per un anno. L'assoluta mancanza di regole che c'è adesso in questo settore purtroppo ha portato a questo, non ha portato nuovo lavoro, nuovi posti di lavoro. L'apertura selvaggia di nuovi centri commerciali non porta al lavoro e soprattutto non porta a buon lavoro. Molti i dati negativi che la CGL ha registrato negli anni colpiti alla crisi, anche se qualche piccolo segno positivo, soprattutto per quanto riguarda l'estero, fanno ben sperare in una piccola ripresa. La Filctem ha più di un comparto, ovviamente parlare di una sintesi della Filctem è complicato, però possiamo dire che i settori della moda, del manifatturiero in generale, che sono quelli che la crisi l'hanno risentita per primi, sono quelli che adesso ne stanno uscendo, perché le aziende che hanno investito sul prodotto, sul valore aggiunto, sul capitale umano, anche i suoi olifici, stanno venendo fuori dalla crisi. Diciamo una piccola ripresa, ma piccolissima, che però non ci si traduce in posti di lavoro, cioè forse una stabilizzazione dell'azienda, un lieve miglioramento, ma questo non si traduce in posti di lavoro e questo è il dramma, perché i giovani non trovano occupazione.